Sono Antonio e sono qua in Italia da più o meno 15 anni, sono peruviano e ho fatto questa vita qua Qua in Italia ho tanti lavori, quindi ho lavorato del minimo lavoro al massimo lavoro Qua in Italia non l'ho fatto qua, ma qua ho lavorato in tanti campi di lavoro che mi hanno dato la possibilità di vedere come si può esprimere un mondo più tosto come me La in Perù ho studiato elettricità, qua in Italia ho studiato anche elettricità, ma per troppo non l'ho finito Ma sono bravo, non dico di no, ma sono bravo L'ultimo lavoro che ho fatto era in alberghiero Sono uscito con il massimo dei voti Il massimo dei voti è nella scuola Ho fatto il stage, il tirocinante, ho finito E adesso sto aspettando quello che è la capacità di me stesso, di me quello che posso fare Mi chiamo Antonio, grazie 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 Grazie